Sindaco, accordo firmato per quanto riguarda il passaggio della gestione sportiva dello Stadio Bonolis al Comune di Teramo. Adesso manca un importante passaggio, quello in Consiglio Comunale. Intanto un obiettivo che c'eravamo posti, un impegno nei confronti della città che ha mostrato una spinta enorme in questa direzione. Cioè quella di arrivare ad una intesa, ad un accordo che è stato sottoscritto e che porti a raggiungere degli obiettivi importanti. Il primo è quello di risolvere la concessione che era stata sottoscritta nel 2006-2008 e che ha creato enormi problemi alla gestione dello Stadio, di fatto impedendo lo sviluppo di tutte le sue potenzialità come strutture e come impianto nel suo complesso. La separazione della parte sportiva e della parte commerciale con la riappropriazione della parte sportiva da subito per il Comune, ma direi per la comunità terramana, per la città terramana che si riappropria di uno stadio e costruisce un percorso per il calcio terramano di programmazione e di prospettiva e poi anche la chiusura dell'arbitrato perché l'atto è anche un atto che porta con sé un accordo transattivo che definisce tutte le questioni che sono state discusse lungamente all'interno dell'arbitrato. Quindi tanti aspetti positivi, l'accordo è stato sottoscritto, ora il Consiglio Comunale nella sua piena autonomia e nel ruolo e competenza che spetta al Consiglio stesso valuterà l'accordo e speriamo di arrivare in tempi brevi ad una definizione ottimale della vicenda, della questione, per cui c'è stato un confronto importante anche con il gestore perché poi arrivare ad un'intesa significa lavorare costantemente, cercare di mettere a punto le varie questioni, cercare di trovare anche un equilibrio economico-finanziario all'interno dell'accordo, un equilibrio economico-finanziario che è perfettamente garantito appunto da un'operazione che di fatto sul piano economico-finanziario ha una portata neutra. È possibile pensare a un Consiglio Comunale straordinario dopo Ferragosto, subito dopo Ferragosto? Ma il Consiglio Comunale sarà comunque ordinario nel senso che non c'è bisogno di una straordinarietà. La straordinarietà si intende per il periodo di agosto, è possibile convocarlo senza ombre di dubbio, ma vediamo quali sono i passaggi, i tempi tecnici con grande serenità, lasciando anche tutte le valutazioni del caso, giustamente, come giusto che sia, al Consiglio Comunale e ai consiglieri comunali, con un obiettivo che ovviamente non possiamo nascondere e nasconderci, e che è quello di giocare già la prima partita del prossimo campionato di Serie D, partita casalinga ovviamente al Bonolis. Quindi il 25 agosto se la Coppa Italia dovesse giocarsi in casa il Teramo non avrà probabilmente il Bonolis? Io parlavo di Serie D, vediamo, adesso vediamo se e quando sarà la prima partita casalinga, adesso non abbiamo fatto queste valutazioni al momento in modo molto oggettivo, sentiremo, anzi abbiamo già sentito informalmente, ma sentiremo da subito anche il Presidente D'Antonio, muoviamoci appunto con la massima serenità, la giusta e corretta celerità, che ovviamente non ci faccia commettere errori o altro, quindi cerchiamo di muoverci tutti insieme. Il fatto che si sia raggiunto questo accordo in questa fase dimostra che c'è stata un'intesa, questa intesa deve lanciarci un messaggio un po' tutti nell'ottica del buonsenso, perché veramente si tratta di risolvere una questione annosa che si trascina da anni e se non si dovesse risolvere si trascinerà ancora nel tempo. Con questo spirito adesso affronteremo anche tutte le questioni sportive. State già pensando poi al bando di gara per la gestione sportiva? Certamente, è uno degli aspetti più importanti, è chiaro che fin quando l'accordo non arriverà completamento, diciamo così, dopo i passaggi in consiglio e tutti i passaggi previsti non si potrà ufficialmente partire col bando, però il mandato che ho dato è proprio perché è molto importante che si faccia presto e si faccia bene, già di cominciare a lavorare alla sua impostazione. Poi vedremo alla conclusione dell'iter a che punto saremmo arrivati, ma l'obiettivo è cercare di farlo subito, ma soprattutto di farlo bene.